...essere infamico. È ora. Siamo arrivati. Vai avanti, ti seguiamo. In quella vasca, Karot riacquisterà presto i pieni poteri. Ma tu ne sei sicuro? Una, una seringa! No, no, non voglio! Non voglio fare la pulsura! Non ho paura! Portami via di quei crili! Non ho bisogno di nessuna cura! Sta benissimo, sta benissimo! Non sono mai stato... Secondo te utilizzerei dei metodi antiquati come le punture? Ignorante! Niente puntura? Oh, papà, che vergogna!